Si aprono nuove frontiere per il trattamento delle principali patologie della pelle. Per chi soffre di psoriasi, dermatite o orticaria, i farmaci biotecnologici hanno rappresentato una vera e propria svolta. Lo ha spiegato la professoressa Caterina Foti, direttrice della Clinica Dermatologica dell'Università di Bari e organizzatrice insieme al professor Raffaele Filotico della 21esima giornata Apulolucana di Dermatologia Clinica. Le novità sostanziali sono soprattutto i farmaci biologici. Questi hanno rivoluzionato veramente la storia clinica delle patologie dermatologiche più comuni. Parliamo dell'apsoriasi, parliamo della dermatite atopica, parliamo dell'orticaria. Nuovi studi stanno mettendo in evidenza la possibilità di utilizzare questi farmaci in altre patologie, quindi dando un sicuro giovamento ai pazienti che ne sono affetti. Lo sviluppo dei farmaci ha creato nuovi scenari per i pazienti e ha offerto migliori opzioni per gli specialisti nel trattamento di patologie infiammatorie gravi e di grande impatto sociale. Prima si trattava di malattie croniche che richiedevano l'ospedalizzazione. Adesso molti farmaci hanno permesso di evitare questo portando alla risoluzione delle manifestazioni cliniche.